Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, ritorniamo a parlare di GamesGo.pro una piattaforma che ti offre ottimi servizi per risparmiare su Netflix, Spotify, Premium, Disney, Paramount+, HBO Max e altre piattaforme per ascoltare musica. Ovviamente in questo video ti spiego come risparmiare parecchio su YouTube, YouTube Premium ovviamente su YouTube Premium costa 12€ al mese però grazie a GamesGo.pro se vai su Premium tu per 6 mesi puoi prenderlo a 16,88€ aggiungendo anche questo codice sconto che trovi sullo schermo. Quindi in questo caso ti faccio vedere alcuni clienti che ho portato sulla piattaforma e come puoi vedere c'è un cliente che si è comprato 6 mesi, 6 mesi di YouTube a soli 16,54€. Ho comprato anche alcuni abbonamenti tipo Netflix, Paramount e Disney Plus e veramente fanno molto comodo risparmiare su queste piattaforme quindi in questo caso troverete anche tutto nel mio server Discord appena entri qui nel canale Netflix, Amazon, Spotify qui c'è il link per entrare sulla piattaforma e qui invece il codice sconto. Salve a tutti! E ho fatto anche altri video adesso ti faccio vedere che ho comprato eccolo qua avevo anche Netflix 104 giorni e Paramount Plus per 29 giorni sempre lo stesso metodo quindi in questo caso ti danno l'email, la password e tu fai direttamente su accedi e ti daranno così delle credenziali quindi da accedere potrai goderti quello che vuoi e ti diranno anche di utilizzare il numero del profilo ok? perché è tutto condiviso invece YouTube non è condiviso ti daranno direttamente un account quindi in questo caso grazie a tutti per questa visione ragazzi te lo consiglio veramente di prenderti questo YouTube Premium al posto di spendere 12€ al mese quindi per 6 mesi 16€ più lo sconto del 50% perché se vado su acquista subito un abbonamento meno 50% 6 mesi 16€ e 88€ e aggiungi questo sconto qua sotto ok? quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao